Oggi parliamo di opto isolatori, è un tema che ci siamo un po' persi per strada, sono qualcosa di importante vedremo come funziona il 4N25 che è uno dei più famosi, più utilizzati. Iniziamo subito Oggi parliamo di opto isolatori, li abbiamo già visti anche con Arduino, sono degli oggetti molto utili per andare a isolare i circuiti perché ci permettono di separare galvanicamente, come si dice, due circuiti evitando che ci siano passaggi di correnti, di disturbi, di rumori quindi avremo da una parte, solitamente all'interno di questi dispositivi, un diodo solitamente a infrarossi quindi questo viene collegato al primo circuito, questo magari trasmette un segnale per andare a pilotare questo LED interno è meglio sempre mettere un resistore tenendo conto appunto che qua abbiamo un LED a infrarossi quindi il voltaggio è tra 1,5 e 2 poi è sempre meglio ovviamente guardare il datasheet quindi questa è la parte di trasmissione, poi dall'altra parte abbiamo solitamente un transistor quindi questo transistor non ha il terminale di base, in alcuni casi c'è ed è accessibile ma serve per modificare le velocità di trasmissione nel caso soprattutto di trasmissioni rapide in situazioni molto molto particolari, normalmente non si usa e quindi andremo a realizzare un circuito per far sì che questa luce vada a far scattare il transistor contenuto all'interno esistono vari modelli di optisolatori, uno tra i più famosi è il 4N25 4N25 lo trovate in una confezione tipo circuito integrato quindi DIL A6 cioè A6 piedini messi in questo modo su un lato partendo dal pin 1 abbiamo il LED interno il pin 3 non è usato, da questa parte invece abbiamo un transistor con collegato collettore ed emettitore la base viene riportata sul pin 1 ma come vi dicevo prima si usa solo in casi molto rari conviene dare un'occhiata al datasheet del nostro optisolatore tenete presente che ci sono vari modelli che possono contenere più elementi quindi più fototransistor in modo che se avete bisogno di una batteria di segnali non dovete mettere tanti chip ma magari ne mettete alcuni che ne contengono per esempio 4 e quindi avete circuiti più compatti ma anche la parte del transistor può essere differente quindi di solito trovate transistor semplici potreste trovare transistor anche di tipo Darlington abbiamo visto qualche mese fa che ci sono anche optotriac quindi c'è la possibilità di avere dei triac interni oppure addirittura delle porte logiche non è raro il caso trovare per esempio una porta logica che può essere controllata tramite la luce ovviamente sono soluzioni un pochino più costose quindi 4n25 è quello più economico ci sono vari parametri che troviamo magari andiamo a vedere il datasheet questo è il suo datasheet vedete c'è la tensione di isolamento quindi a 5000 volt VRMS che vi garantisce anche una certa sicurezza scorrendolo potete trovare alcune caratteristiche quello importante è la corrente di uscita massima collector current IC 50 mA allora non sono adatti di solito per controllare dei carichi del relay un relay 100 mA quindi non usateli per controllare direttamente i dispositivi di potenza ma andate magari a collegargli un transistor o qualcos'altro per evitare di bruciare quindi tenete conto sempre della corrente massima evitate di raggiungere questi livelli perché magari lo danneggiate lato input invece ci dice quali sono le caratteristiche del diodo interno c'è un altro parametro che è sto CTR questo qua lo trovate spesso è praticamente il guadagno tra la corrente di ingresso e quella di uscita 20% vuol dire che la corrente di uscita è il 20% di quella all'ingresso c'è anche una formula che esprime sto CTR quindi CTR sta per current transfer ratio e la formula dice che la corrente del collettore fratto IF per 100% è la specie di guadagno e funziona quando non lo usate in saturazione quindi se lo usate per modulare un segnale dall'altra parte solitamente andiamo sempre in saturazione quindi diciamo questo qui possiamo ignorarlo ma come possiamo farlo funzionare? il circuito più semplice lo disegniamo qui sotto usando appunto il 4N25 è quello in cui abbiamo per esempio da una parte andiamo a mettere una resistenza la mettiamo da 390 questa entra nel nostro optoaccoppiatore per alimentare il diodo interno quindi gli do una forma metto il simbolo quindi non il componente qui andiamo verso ground da questa parte possiamo mettere per esempio un pulsante collegato a 5V che accende questo ledino interno e quindi fa scattare il nostro optoisolatore da questa parte quindi vi segno i pin 1 e 2 se fosse 4N25 qui abbiamo il pin 4 e questo qui il pin 5 da questa parte per farlo funzionare allora il 4 lo possiamo collegare verso ground e molti collegano magari direttamente questo all'uscita ma così non funziona dobbiamo usare un sistema fatto in questo modo con una resistenza come se fosse una pull up qui abbiamo l'alimentazione su questo lato se fosse 5V qui metteremo 5V altrimenti la tensione che avete da questa parte è il resistore qua che viene calcolato in modo opportuno qui c'è la separazione come si calcola questo resistore attenzione la tensione di uscita la prendiamo qua quindi è questo qua la mia Vout sarà questa ok Vout e attenzione funzionerà al contrario quindi se il led è spento qui ho 5V se il led è acceso questo va in saturazione e quindi qui abbiamo circa 0,1, 0,2 a volte sugli optoisolatori anche più alto quindi 0,5V e quindi qui andiamo col segnale basso la resistenza qui va scelta in modo accurato perché altrimenti il transistor non va in saturazione quindi non può essere né troppo grande né troppo piccolo perché sennò rischiate magari di far passare troppo a corrente e di bruciarlo basta fare il calcolo per conoscere la corrente I che circola qui dentro abbiamo il nostro resistore qui abbiamo la VR tensione ai suoi capi se io volessi calcolarmi la I dovrò fare allora la tensione di alimentazione che è 5V meno la VCE di saturazione che è questa qua VCE SAT quindi qua mettiamo VCE il tutto diviso il valore di R impostando questa formuletta possiamo determinare il valore di R oppure per la R scelta vedere che corrente circola proviamo a farlo al contrario quindi immagino di mettere la resistenza da 1K quindi vado a occhio se mettesse la resistenza da 1K qui avrei 5V meno in saturazione se voi andate a scorrere il datasheet dovremmo trovare su output saturation voltage dovrebbe essere quindi 0,5 quello massimo 0,5 con 2 mA immaginiamo di mettere appunto 0,5 e qui sotto di mettere la nostra resistenza da 1K vediamo cosa esce qui esce 4,5 qui sotto 1K quindi queste sono Volt qui escono 4,5 mA 4,5 mA qua diceva che eravamo in saturazione a 2 mA quindi ci siamo abbondantemente e siamo comunque sotto 50 quindi non rischiamo di danneggiarlo in teoria dovremmo controllare anche la corrente che circola qua nel nostro diodo di ingresso però considerato che è un led possiamo anche andare a spanne quindi fare come ho fatto io se volete essere precisi invece fate i calcoli andremo a provarlo su una breadboard per vedere il funzionamento ho aggiunto dei led perché se no non si capisce molto quindi qui sul tasto questo qui dà la tensione a questo leddino ho aggiunto anche un'altra resistenza da 3,90 con un led in modo che si possa proprio vedere quando accendiamo di qui dall'altra parte nello stesso modo sono andato a mettere una resistenza da 3,90 con led messo così ci fa vedere l'uscita come vedrete lavorano invertite eccolo qua su breadboard vedete con il giamperino perché non ho messo l'interruttore ho messo un giamperino semplice quando accendo il leddino si spegne quello in uscita che è rosso abbiamo visto come utilizzare un opto isolatore a 4 anni e 25 che è uno dei più comuni ne esistono varie tipologie quindi non solo come questo quindi questo qui è singolo ci sono anche doppie addirittura quadrupli e anche realizzati da tanti altri produttori basta farsi un giro su un sito di rivenditori di componenti nella sezione opto isolatore per vedere quanta scelta c'è possono differenziarsi anche per la corrente di uscita a seconda di quello che volete fare bene per oggi è tutto vi saluto vi ringrazio ci vediamo domani ciao